Anche quest'anno il Best Fighter Training Camp, tradizionale campo di allenamento estivo organizzato dalla palestra piacentina Yamarashi, è riuscito a centrare l'obiettivo raggruppando un'ottantina di atleti sulle spiagge di Cesenatico e dando vita a una settimana di allenamenti super intensivi di arti marziali. È nata appunto per finalizzare la preparazione ai ragazzi che vengono selezionati per la nazionale. E Yamarashi per fortuna ne ha sempre ogni anno, quest'anno in particolare ne abbiamo ben nove che è una roba veramente straordinaria, miglior società dell'Italia in questo. Appunto nasce il camp come allenamento intensivo per finalizzare la preparazione europeo-mondiali. Quest'anno i mondiali saranno a Budapest fra due settimane. È un'ottima opportunità anche per tutti gli altri, infatti sapere di potersi allenare con chi è atleta azzurro o già medagliato europeo-mondiali ovviamente attira. Quest'anno eravamo più di 80, da varie città italiane, regioni italiane, anche stranieri, dalla Germania, insomma abbiamo avuto anche messicani l'edizione l'anno scorso. Insomma è un evento che attrae gli atleti, diciamo così, interessati a progredire. Capillare la programmazione degli allenamenti. L'organizzazione, la programmazione, comprende, prevede quattro allenamenti al giorno. L'obbligo era per tutti almeno tre. Erano previsti point fight come una delle lezioni, light e kick light come altra specialità di combattimento. E infine la muay thai, la box hailandese. Però molti hanno approfittato della situazione, hanno fatto la scorpacciata facendo tutti a quattro le sedute, quindi sono molto soddisfatto di questo.